Ciao amici, oggi parliamo di un'altra cosa che è rimasta per tanto tempo in scatola nell'armadio di AWK Studio, un posto dove si gioca, si impara e si cresce, ma senza mai diventare grandi. Parliamo di Nightbird. She's a ninja. Le ho detto bene, non è solo un ninja, lei in italiano si chiama proprio... Ninja. Ninja, anche se il suo nome intero, nome per esteso, Nightbird Shadow. E quello che abbiamo qui non è un asbro, ma è un takara. Takala. Takala. Lo dici molto alla giappocinese. Mi piace. Giappocinese? Mi piace, mi piace. Vedi che lei, lei è proprio disegnata esattamente come esce da quella maledetta puntata nella stagione 2, episodio 6, Enter the Nightbird. E sì, perché ce la sembra... questo qua sembra le... i spari di Raffaello. È vero, sembrano i sai di Raffaello. Infatti lei effettivamente, lei è fisicamente un ninja. Anche se in italiano l'abbiamo chiamata ninja, perché diciamo che tradurre il suo nome in italiano non dico che suona male, però suona un po' vietato ai minori, perché chiamare lei uccello della notte non mi sembrava molto adeguato. Anche se si potrebbe riferire a un barbagianni, una civetta, un gufo. Raffaello, spade e sono con te punti. Uno, due, tre. Uno, due, tre. Uno, due, tre e uno, due, tre. Uno più... com'è? Una un po' più corta e poi una un po' più lunga, vero? Che puoi anche fare... Vabbè, no, non te lo insegno questo. Andiamo avanti. Intanto vi lascio giù... Facciamo, facciamo come quando mettiamo le frecce, però giù. Giù vi lascio il link della puntata. Tanto è su Hasbro Pulse ed è gratuita. E ai nostri amici ci piace quando le robe sono gratuite. Ci piace. Tu te ne ricordi la storia di lei? Prima di andare ad aprirla, di farvi vedere quanto è figa la scatola Takara della serie 30 Anniversary. Questa cos'è? 2015. Bene, parliamo dopo. Ti ricordi la storia di lei? Sì, che un personaggio c'erava un blanket to cover it because it was a surprise. Sai, è bravo. Lo stava facendo, un product reveal. E lui era... com'è che si chiamava lui? Il professor Fujiyama, che è il nome ufficialmente creativo che hanno trovato. Professor Fujiyama. Infatti, i Decepticons cosa fanno? La portano via e BoomShell, si improvvisa scienziato, eh? E lui cosa fa? Gli impianta un software che la fa diventare coscienziosamente cattiva. Sì, e quando fa la bava lo mette un simbolo. La bava come i Doberman, intendi? Una bava. La bava, quella dei Doberman che viene giù, dei fianchi. Lascia prendere. Ok. E poi c'era un simbolo di Decepticon. E poi è lì. E poi è lì. E lei cosa fa? Va nella casa degli Autobot. Ruba di Energy Chip. Cioè, un supporto di memoria dove hanno salvato tutte le location dell'energia del mondo. Molto comodo salvarlo in un posto dove apri e lo porti via. E quindi lei va lì, fa questa roba, e poi è talmente forte che fa un mazzo così a tutti e la devono intrappolare nella prigione di energia e la devono disattivare. Altrimenti sono sai da... Non te lo posso dire. Vabbè, hai capito? Esatto. Un bottom like this gli fa. Lei, tra l'altro, questa qui, vedi che diventa una versione nera. Che poi sarebbe la versione... Sarebbe RC, no? Sarebbe RC che l'hanno presa e hanno fatto un bel recolor. Però RC non ci interessa. Lei non si trasforma mai. Cioè, non ha un alt mode. È un droide ninja. È vero che nella versione giapponese di questa roba qui, lei si fonde in simbiosi con un'intelligenza artificiale dal nome Shadow e diventa Nightbird Shadow. Quindi doppiamente cattiva. Addirittura lei si associa a un gruppo che si chiama i Six Changers, dove ovviamente c'è anche Six Shot. e cosa fa? Impara a trasformarsi, anziché, anche se... Vedete che ha le armi come RC, però anziché avere il più più rosa, lei c'ha i Sai, però ha anche i più più come RC. Adesso andiamo ad aprirla. Questa edizione del 2015 faceva parte della serie Thrilling 30s, per i 30 anni dal lancio dei Transformers, ed è stata commercializzata sotto il brand Transformers Legends LG 15. Ah, ma tra l'altro la scatola Reca, queste bellissime illustrazioni tipo giapponesi, con dei robbi tipo... c'è un gorilla che tiene in mano un Optimus, poi c'è... Ah sì, ecco, questi qui sono richiami a Beast World, perché c'è un gorilla che tiene in mano un Optimus, poi c'è un topo che tiene in mano un Rat Trap, poi c'è questo che tiene in mano questo, poi c'è uno che sembra Bowser che tiene in mano quello, e sarebbe bello avere qualcuno che conosce questi qua e che ce lo illustrasse, ma noi siamo ignoranti, per cui se volete saperne di più andate a vedervi gli YouTuber esperti. Noi non li siamo, noi siamo gli YouTuber quelli della domenica, anche se oggi stiamo registrando di mercoledì. Papi, questo cos'è dentro nella scatola? Vabbè, tanto c'è lei. Lei, cioè questa... Traffermata in macchina, guarda che ce l'ha questo qua. Il volante. Il volante. Come la Tesla, è una self-driving car. Sì, ma se vuoi andare a andare in mano, devi avere una mano sull'aria. Uno steering wheel, se vuoi andare by your own, guardate però che bella la plancia, il particolare della plancia. Tra l'altro, questa se fosse la versione giapponese, perché gli hanno messo la guida a sinistra? Sembra una pistola. Sembra una pistola, sembra anche la macchina di Ken Falco, ma che bella che è. I colori di questa roba sono stratosferici e sono contento che la mia telecamera riesce a mettere a fuoco da vicino perché vi faccio vedere le robe bene bene, non lontane, sfocate e brutte. Eh sì, che è vero, quando vediamo una nuova macchina, diciamo, guarda che mezzo quello lì. Guarda che mezzo, l'hai imparato da me questo termine. c'è proprio questa espressione cattiva, eh lei? Cattiva come nel cartone animato, in quella sua fugace apparizione. E adesso intanto che io do un'occhiata ancora a questo fumetto, tu fammi una posa e armala. Fumetto, lei pare stia consegnando delle bibite di Energon o Energon e qui al Monster Show al Motel Show del 2015. Quindi ho detto 2015, non ho detto una castroneria. Poi si trasforma, cade e c'è sempre i suoi sai attaccati ma c'aveva un badge con scritto Nightbird, si arrabbia, alza una roba e mi piace questa interpretazione giapponese che è sempre molto giocosa contro invece le robe molto seriose, occidentali, tipo IDW e lei cade per terra. Prima si intrappola nei fili, poi cade per terra sulla buccia di banane e fa la classica strizzata d'occhio giapponese. Quanto mi piace questo cartone un po' giocherellone che è stato introdotto insieme alle istruzioni. Nightbird, va detto che oltre a questa edizione della Thrilling 30s di Nightbird, Shadow, esiste anche una versione War for Cybertron che è un retool di Chromia e una versione Masterpiece che è ovviamente un retool di RC. Bellissima, una posa action, guardate che gambone, che coscione, che cosciazze che ha la signorina. c'è un po' di backpack, eh, Leo? Che l'hanno fatto? Un po' di backpack. Guarda un po' qua, c'è un cofano intero come backpack, però... Come, come RC. Come RC, esattamente, ma non possiamo mica, non possiamo mica, di asimarla. Del resto, lei è la copia di RC, quindi... E se... se fa così e poi lo tiene indietro va matto. Amici, siamo arrivati in fondo anche a questo filmato. Abbiamo fatto vedere la nostra Nightbird Shadow. Ed è veramente bella. È disegnata, colorata e posata anche da Leo benissimo. Che dire, un'altra farlocca e strampalata recensione di AWK Studio arrivata a termine e volevo invitarvi a iscrivervi al canale. Vi lascio qui sotto il bannerino che invita all'iscrizione perché AWK Studio è quasi arrivato a mille iscritti. Cosa da non credere. E siamo sempre Papi e Leo e un po' Papi che va in giro per negozi e un po' Papi e Leo e un po' di documentari e un po' di qui e un po' di là insomma che siamo arrivati quasi a mille iscritti. E il messaggio che vogliamo dare a questi mille iscritti e anche ai prossimi mille e ai prossimi che ci saranno o che non ci saranno non importa è sempre lo stesso. Quello di continuare a crescere senza mai diventare cantare. Il next filmato è Leo Prime. Quando mi sveglio vado a scuola quando ho finito la scuola vengo a Papi dico Papi ciao e poi e poi quando Papi dice andiamo a fare Leo Prime e ci aspetta qua e Leo Prime è come Leo ma solo perché lui è Leo Prime io non sono Leo Prime he's Leo Prime he is a toy I'm a real person e Papi cos'è questo simbolo? Ne parliamo la prossima volta. Ciao